Bentornati amici investitori, con il sito appuntamento di resoconto mensile dei nostri investimenti. Come al solito andremo a vedere sia la parte azionaria, quindi come sta andando il nostro portafoglio, andiamo a vedere quello che stiamo facendo per quanto riguarda il crowdfunding, ma non solo, anche gli investimenti in oro fisico e in startup. Poi andiamo a vedere quella che per me è sempre la parte più importante, ovvero l'investimento su noi stessi, sulla crescita personale, libri e formazione. Ed infine vi do ovviamente un aggiornamento sul progetto del Club degli Investitori, di cui vi sto parlando da diverso tempo. Finalmente stiamo arrivando a concretizzare questo progetto e saremo pronti a partire nel mese di febbraio. Quindi tanta carne al fuoco, sigla e cominciamo! E partiamo come di consuito da quello che è l'analisi del nostro portafoglio, dei nostri investimenti azionari. Abbiamo visto che nel 2020 abbiamo chiuso l'anno con un più 24,45%, quindi sicuramente un ottimo risultato. E stiamo cominciando il 2021 in maniera molto molto positiva, infatti gennaio, sto registrando il 29, quindi manca ancora l'ultima giornata di venerdì, comunque siamo a già una partenza di più 4,52%, quindi sicuramente un inizio molto positivo, speriamo che sia di buon auspicio per il proseguo dell'anno. Come ci piace ricordare sempre, non c'è nessun rendimento in nessun prodotto finanziario e non, che non va considerato insieme a un grado di rischio. Nel nostro caso specifico, su una scala da 1 a 10, il grado di rischio che ci viene assegnato dalla piattaforma è 4, quindi comunque medio-basso, vogliamo tenerci su un grado di 4, massimo 5, quindi per tenere comunque la situazione sotto controllo. E potete poi anche vedere quelle che sono le perdite massime realizzate giornalmente sulla settimana o sull'anno. Ne approfitto per ringraziare le 167 persone che stanno copiando in questo momento il portafoglio, quindi che sposano questo progetto. In totale siamo arrivati a 225.000 dollari, che è il capitale appunto che è in copia su questo portafoglio. Io vi ringrazio perché è una grande responsabilità e spero che possiamo proseguire questo progetto, questo cammino insieme per tanto tempo. Ovviamente per chi volesse vedere il portafoglio o eventualmente copiarlo, trovate qui sotto in descrizione i link direttamente al portafoglio stesso. Ed ovviamente però mi tocca sottolineare che questi non sono assolutamente né consigli di investimento, né inviti ad investire, anzi, dovete assolutamente considerare qualunque tipo di investimento voi facciate o state considerando di fare, che questo investimento sia comunque in linea con quelli che sono i vostri obiettivi di vita, il vostro grado di rischio, i vostri obiettivi finanziari in definitiva. Quindi ogni investimento va ben ponderato, bisogna avere una strategia prima di cominciare ad investire, soprattutto se considerate di investire soprattutto in ambito finanziario dovete avere una strategia, un piano che sia almeno di tre o cinque anni. Perché sul breve periodo può succedere di tutto, possiamo essere soggetti alla volatilità dei mercati, però tendenzialmente all'aumentare del tempo di investimento i dati sostanzialmente dovrebbero convergere verso quella che è una media storica. Quindi strategia di lungo termine soprattutto per gli investimenti finanziari in modo tale da raggiungere veramente i nostri obiettivi e non rimanere solo soggetti del caso. Andiamo però a vedere cosa sta succedendo all'interno del portafoglio. A parte Micron e Disney che abbiamo visto erano cresciuti già nel mese scorso, abbiamo Beyond Meat che è esplosa questo mese proprio di recente e quindi ci ha portato a fare un più 40%, quindi anche questo investimento sta dando i suoi frutti. Se vi ricordate nel mese scorso Beyond Meat era addirittura in negativo. Andiamo a vedere quelle che sono le aziende in negativo. Abbiamo ancora PCG e CK Hutchinson, quindi sono ancora investimenti che stiamo aspettando che esplodano mentre Alibaba invece ha ripreso quella che era la perdita. Se vi ricordate il mese scorso eravamo circa a meno 9%, siamo tornati in territorio assolutamente positivo. Sono invece partiti molto bene i due investimenti che abbiamo fatto questo mese ovvero i Health che è un investimento più di lungo periodo e Twitter che invece è un investimento più di breve periodo. Comunque tutte queste considerazioni e l'analisi del portafoglio noi tutti i mesi facciamo una live e vi lascio qui sopra linkata quella di questo mese e nella live sostanzialmente andiamo a discutere posizione per posizione tutte le strategie le nostre aspettative perché usiamo questo portafoglio sostanzialmente come uno strumento pratico per andare a mettere in pratica poi tutto quello che ci raccontiamo durante i video e quindi gestiamo veramente un portafoglio in reale per capire come affrontarsi rispetto a quello che succede sui mercati e quindi diciamo capire tutti insieme come appunto andare a gestire un portafoglio una strategia di investimento ed oltre al link delle live che facciamo appunto tutti i mesi vi lascio anche il link sempre qui sopra della playlist sulle migliori azioni perché tutte le aziende che andiamo ad analizzare appunto sono dei video raccolte all'interno di questa playlist e le migliori aziende dove andare ad investire quindi ve lo lascio sempre qui sopra linkato passiamo adesso all'auto crowdfunding ci eravamo lasciati con Cryptalia o comunque in generale sul crowdfunding dove avevo sospeso gli investimenti per raccogliere i capitali che mi sarebbero serviti mi sono serviti poi per partire con il progetto del club degli investitori potrò invece ricominciare quindi ad investire a partire da febbraio quindi sicuramente ricomincerò ad investire su Cryptalia e anche qui abbiamo già una playlist con la spiegazione della piattaforma e tutti gli investimenti che abbiamo fatto fino a questo momento mentre sono felicissimo di dirvi che già domani domenica 31 gennaio uscirà un video dove vi racconto invece del nuovo investimento che ho già realizzato che è quello in una startup ho usato la piattaforma We are starting ci sono diverse campagne aperte nel video di domani scoprirete su quale startup ho già investito e per concludere il cappello del crowdfunding possiamo parlare di prestiamoci questo mese ho pubblicato il video ve lo lascio qui sopra linkato con l'intervista all'amministratore delegato è una piattaforma sulla quale sicuramente avrò ad investire probabilmente a partire proprio da febbraio quindi vi terrò aggiornati e non appena effettuerò qualche investimento sicuramente vi farò un video a riguardo e chiusa la parentesi per quanto riguarda il crowdfunding possiamo invece iniziare a parlare di quelli che sono gli investimenti in oro fisico vi lascio sempre qui sopra il video della recensione che abbiamo fatto sulla piattaforma Conto Lingotto che per me è una delle soluzioni più semplici veloci e pratiche per investire in oro fisico con tutte le funzionalità del caso ma vi lascio al video per andare ad approfondire anche in questo caso è un investimento che sto pensando di cominciare sto mettendo appunto la mia strategia il mio piano di investimento anche su questa piattaforma quindi non appena comincerò magari proprio da febbraio sicuramente vi aggiornerò con un video dedicato per tutte le piattaforme che abbiamo visto sino a questo momento se siete interessati ad approfondire trovate qui sotto in descrizione i vari link di affiliazione ai quali sono associati dei vantaggi per gli investitori per esempio Cryptalia vi restituisce i soldi legati alla tassazione prestiamoci via zero le spese per i primi tre mesi il conto lingotto vi diminuisce le spese per un anno ad ogni link solitamente è associato un vantaggio per voi investitori quindi se avete il piacere di usarli li trovate qui sotto in descrizione passiamo adesso alla parte più importante l'investimento più importante ovvero quello su noi stessi sulla nostra formazione questo mese vi anticipo già non sono riuscito a leggere tantissimo rispetto al mese scorso ho letto solo due libri ma sono stati due libri molto molto interessanti il primo riguarda la Cyber Security Cyber World come saprete in questo mese ho approfondito tantissimo il discorso della Cyber Security ho fatti diversi video per quanto riguarda le aziende in questo settore mi ho fatto un video con i migliori etf sulla Cyber Security e ho letto anche un libro a questo tema che è appunto Cyber Security Cyber World e poi ho letto anche un libro invece di divulgazione scientifica ovvero le mie risposte alle grandi domande di Stephen Hawking anche questo l'ho trovato molto molto interessante tutti i libri che leggo e che per me vale la pena consigliarvi li trovate sempre qui sotto in descrizione c'è un link con i libri consigliati e li trovate sia i libri riguardo gli investimenti sia i libri riguardo alle letture in generale e sempre nell'ambito della formazione ne approfitto per dirvi che è online il nuovo sito viveredidividendi.it quindi trovate tante informazioni anche sul sito e nella sezione i nostri partner oltre ai partner che conoscete con i quali già collaboriamo da tempo abbiamo avuto l'onore anche di stringere una collaborazione con Sven Carlin tra l'altro ha fatto un video in italiano per il nostro canale Sven gestisce una piattaforma di investimenti che ho avuto modo di apprezzare grazie a questa partnership nella piattaforma potete trovare le analisi delle aziende i suoi portafogli di investimento che aggiorna regolarmente ogni volta che fa delle movimentazioni è una piattaforma molto complita dove si può imparare molto chi appunto volesse andare a dare un'occhiata trova direttamente il link sul sito viveredidividendi.it e adesso finalmente arriviamo agli aggiornamenti sul progetto Club degli Investitori ragazzi sta diventando veramente realtà è un po' che ne parliamo il progetto è andato un po' per le lunghe ma perché è un progetto molto complesso molto grande molto importante con il quale appunto voglio condividere con voi praticamente tutti gli investimenti e potremo fare gli investimenti tutti insieme tramite appunto questa società che stiamo costituendo state vedendo in anteprima quello che sarà il sito della nostra holding di investimenti che andremo a costituire vi posso svelare il nome e il loghino quindi si chiamerà new it e dal claim investiamo Italia potete ben capire di come questo progetto sia appunto concentrato orientato agli investimenti in Italia per andare a dare anche un supporto a quella che è l'economia reale quindi un progetto che sia vincente da entrambe le parti dal lato nostro come investitori ma anche dal lato del sistema paese come Italia quindi a febbraio per tutti quelli che si sono iscritti nella mailing list di questo progetto trovate il link sempre qui sotto in descrizione invierò in anteprima l'indirizzo per guardare il sito quindi ne possiamo discutere insieme possiamo fare i vari aggiustamenti del caso prima di andare assolutamente pubblici andremo pubblici quando verrà costituita materialmente l'SRL che stiamo formando siamo in fase di definizione dello statuto una volta definito quello possiamo fondare la nostra SRL e quindi faremo una presentazione ufficiale in grande stile anche ovviamente con tutti i partner che sono coinvolti perché appunto il valore aggiunto di questo progetto è che per ogni asset class abbiamo coinvolto un partner di riferimento quindi sicuramente andremo a dare un grandissimo valore aggiunto perché ovviamente sarebbe impossibile per ognuno di noi essere esperti in ogni singolo settore degli investimenti mentre in questa maniera appunto abbiamo una partnership specifica per ogni asset class all'interno del portafoglio quindi ragazzi si preannuncia un febbraio molto ricco di iniziative tra il progetto da far partire i nuovi investimenti che andremo a fare sulle diverse piattaforme il nostro portafoglio pubblico che sta continuando a crescere sia come persone sia come rendimenti speriamo sia all'ospicio per vivere un altro anno grandioso come è stato il 2020 almeno dal punto di vista dei nostri investimenti io aspetto qui sotto nei commenti tutte le vostre considerazioni e le vostre idee ricordate di lasciare un bel mi piace per supportare il canale iscrivetevi attivando la campanella se non l'avete ancora fatto se vi piacciono queste tematiche noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video io vi saluto e buon dividendo a tutti e buon dividendo a tutti